Si è diventata di fatto una piacevole tradizione perché da quando abbiamo iniziato questa esperienza e questa collaborazione con la Comart oggettivamente tutte le iniziative sono state un bel successo, hanno registrato una grande partecipazione. Ci auguriamone sia così anche quest'anno. Abbiamo improntato di fatto una notte che ci fa tornare un po' bambini perché ripercorriamo l'infanzia e anche un po' l'adolescenza di tanti attraverso la storia dei cartoni animati perché l'ospite di quest'anno sarà Cristina D'Avena che fra l'altro reinterpreterà le sue canzoni anche in maniera goliardia con i Jane Boy che sono il gruppo che la accompagna. E a seguire, sempre in Piazza della Repubblica, il momento musicale proseguirà con una sorta di battaglia musicale tra gli Strano Baccano e i Nord Sud Ovest Trash. L'iniziativa comincia dalle 19 con la consueta collaborazione dei pub terranovesi che saranno presenti in piazza per degustazioni e così i cittadini potranno contare anche su un momento enogastronomico. In più, oltre a queste iniziative, ci saranno anche di fatto tutti i negozi di Terranova aperti. Uno dei punti di forza di fatto di una notte a Terranova e del giugno terrenovese è che tocca veramente tante generazioni perché si va veramente dai più piccoli fino ai nonni e credo che questo sia stato il valore aggiunto che ha guidato questa manifestazione nel corso del tempo e le ha permesso di riscuotere per l'appunto un bel successo.